buongiorno dalla redazione di firenze smart in studio marco gargini in a 11 il traffico si sta intensificando in direzione firenze tra prato ovest l'allacciamento con la 1 e tra sesto fiorentino e peretola stessa cosa in fipli dove il traffico si sta intensificando tra scandici e firenze scandici in direzione firenze sulla strada provinciale 11 pisana per fucecchio senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 4500 e 8500 nel comune di cerreto guidi fino al 6 aprile in orario 8 19 a firenze via de giacomini fino al 18 marzo manutenzione interna di un fabbricato per questo motivo la strada interrotta da piazza degli antinori a via delle belle donne muoversi in toscana è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio